ciao a tutti e buon giovedì oggi vi vorrei parlare di una live di chiara dal titolo mi avete stufato parassiti perché perché è stata una live un po particolare e andiamo a scoprire il perché innanzitutto lei è seduta alla sua solida postazione cioè quella sul divano e impellicciata e incappucciata tutta di rosa praticamente ricorda molto il coniglio tenerone impersonato da gianfranco d'angelo praticamente a questo poncio appunto rosa con su il cappellino il cappuccio appunto dice che fa molto molto freddo e si improvvisa un po giornalista diciamo una corrispondente dal polo nord dice che fa freddo che ci sono le stalattiti insomma ragazzi poverina veramente evidentemente soffre questo freddo dice che comunque appunto perché fa tutto questo tè freddo lei vuole scaldare l'atmosfera col suo brio con la sua creatività ed il suo estro quindi preparatevi ad avere molto molto freddo comunque ci mostra il suo outfit praticamente che questo poncio appunto rosa di elocchitti con la faccina di questa elocchitti stampata sul davanti faccina enorme sapete che lei adora elocchitti e si avvicina a un certo punto davide e lei gli dice vieni facciamo i poncioni veramente io avevo capito porcioni mi stavo preoccupando ma fortunatamente poi ho rimesso indietro ho sentito ha detto poncioni o meglio ha detto facciamo i poncerelli e quando ho capito che intendeva facciamo vedere che portiamo i poncio mi sono un attimino rilassata in ogni caso si affaccia alla live davide anche lui bello tutto imponciato con questo maglioncino con questa felpa insomma anche lui bello incappucciato dal colore che sembrava giallo o comunque verde acido interno rosso insomma posso dirvi che attenzione perché se andate a vedere la live può causarvi potrebbe causarvi questo colore un distacco della retina in ogni caso anche il tessuto era un po strano mentre quello di tessuto del poncio di chiara pare bello morbido quello suo sinceramente sembrava ricordava un po un tappetino del bagno lavato male poi ci parla del suo sacrificio per amore materno nel senso che ha dato il suo piumone alla madre perché appunto fa freddo quindi le ha regalato il piumone con marilyn monroe e quindi insomma ha un valore aggiunto il fatto che c'era marilyn monroe su questo piumone quindi lei si è ritrovata insomma a dormire male ad avere freddo ecco quindi ha dovuto recuperare un piumone che cosa ha fatto praticamente è andata da primark e le hanno detto che piumoni matrimoniali non li vendono più dopodiché pare abbia telefonato chiedendo se questi piumoni c'erano o meno gli hanno detto sì ci sono i piumoni matrimoniali le voleva che il commesso comunque responsabile che le aveva risposto andasse a controllare se effettivamente questi piumoni c'erano meno per non fare un viaggio a vuoto e il commesso gli ha detto noi queste informazioni per telefono non le diamo e lei con l'aria furbetta dice che invece loro danno molte informazioni in più telefonicamente riferendosi a quando un utente di fate aveva chiamato primark per quanto riguarda lo scontrino di chiara poi ci racconta che l'eda primark è andata è andata appunto per prendere questi piumoni ha fatto anche altre spese tra cui le cicche cioè le gomme per sua madre le gomme da ciancicare come si suol dire per la madre che subito quando ha appreso questa notizia si alza dalla poltrona dove era per ravanare nel sacchetto della spesa di primark ed appropriarsi delle gomme da masticare che sono se vi interessa al gusto ciliegia e che lei ha apprezzato molto tanto che subito se ne è messa in bocca dopodiché chiara ci dice che da domenica sono senza linea e senza telefono perché risulta un guasto delle centraline esterne della vodafone che ripareranno il prima possibile insomma era una questione di giorni volevano darle anche dei giga illimitati però loro non avendo vodafone insomma si sono trovati costretti a rifiutare in ogni caso la live ogni tanto comincia a saltare ad un certo punto chiara ci dice che tentano di sabotarla chiamandola al cellulare quindi ogni tanto fanno queste chiamate e quindi ogni tanto la live salta dice che queste sono persone di m praticamente persone che non ci stanno con la testa e poi comincia a parlare della polemica dei regali che ha fatto a davide la live continua a saltare e lei dice che tentano di bloccarla per non farla parlare come chissà quali segreti o cose interessanti dovrebbe dire comunque lei ci tiene a sottolineare che non si farà schiacciare mai da nessuno riprende la polemica dei regali di davide e dice che ha regalato al marito il giubbotto dei chicago bull e la tuta appunto sempre dei chicago bull che ha pagato in tutto 100 euro e che comunque ha fatto un altro regalo al marito che non vuole dire e che non vuole appunto far vedere e che comunque sarebbe potuto bastare anche un biglietto con scritto ti amo insomma sarebbe andato bene ugualmente anche soltanto il biglietto e io di questo sono sicura come sono sicura che anche se davide le avesse fatto un biglietto con scritto ti amo sarebbe stato ugualmente apprezzato e qui viene da chiedersi insomma se davide avesse fatto la stessa cosa con lei cioè se le avesse soltanto regalato al suo compleanno un bigliettino con scritto ti amo se fosse stato apprezzato ugualmente io comunque credo di sì perché tanto i regali se li fa da sola quindi o davide glieli regala o meno insomma comunque i regali le arrivano afferma che a lei dei canali di scolo non importa assolutamente nulla anche se a dire il vero non sembrerebbe perché insomma ogni tanto ha qualche risposta da dare a questi canali se davvero non le interessasse nulla insomma non sarebbe lì a rispondere o a sottolineare determinate questioni sappiamo però come funziona qui su youtube nel senso fare una live tra virgolette guasta comunque anche se non risolve la situazione comunque diciamo che fa guadagnare in ogni caso a un certo punto cita anche dennis definendolo un lurido di fogna perché ha messo in giro la voce che lei paga a rate anche se lui che le ha insegnato a farlo dice che comunque da un po di tempo non usa né più clarna né scalapei e qui insomma viene da fare una considerazione nel senso quando le si fa notare che lei spende tantissimo da primark o da altri negozi lei ha sempre detto che fa queste cose con le gift card quindi pagando a rate o con clarna o con scalapei adesso invece dice che non lo usa da tanto tempo quindi teoricamente pagherebbe tutti i suoi acquisti cash non so qual è la cosa peggio nel senso se pagarli cash pagare cash spese da 23 400 euro o se farlo con clarna e scalapei lei dice che non c'è nulla di male io sono assolutamente d'accordo con lei ma se davvero non c'è nulla di male non c'è neanche nulla di male ad ammetterlo lei dice comunque che è una diciamo che per quanto riguarda l'economia domestica lei sta molto attenta non si fa sommergere dai debiti e vorremmo sperarlo tutti quanti e rivolgendosi a coloro che l'hanno criticata per i regali che ha fatto a davide dice che fanno schifo che hanno dei consorti che non regalano loro niente oppure regalano corna quindi sappiate voi che avete usato criticare i regali che lei ha fatto al suo marittino insomma che siete tutti corrutti in ogni caso parla del canale che ha fatto chiudere alla dama nera e dello strike che le ha mandato sul suo secondo canale come dice lei avviso di garanzia secondo me insomma chiara frequentato troppe volte la stazione dei carabinieri e probabilmente anche i tribunali perché insomma comincia a parlare veramente come un addetto ai lavori informa la sua utenza dopo varie interruzioni che ha bloccato i numeri che la chiamavano e direi meno male perché tra la linea che non funziona per i guasti e i numeri che continuavano a chiamarlo questa chiamarla questa live insomma è andata molto molto a scatti dice che su suo marito non c'è nulla da dire che loro sono persone per bene dopodiché parla anche del litigio di una certa youtuber con un'altra persona si riferisce a chiara paradisi e che ci si sono buttati tutti come avvoltoi ma che lei non importa nulla e qui la domanda sorge spontanea se non ti interessa nulla perché ne stai parlando non si sa non si capisce dopodiché le chiedono in chat se ha pagato la bolletta del telefono viste le continue interruzioni e lei con area sprezzante dice risponde a quest'utente che se spende 800 euro da primark può anche permettersi di pagare la bolletta del telefono insomma magari qualcuno se lo sta chiedendo quindi sappiate che comunque denari in quella casa ce ne sono poi torna ad informare la damanera che se dopo il 6 gennaio sul suo canale ha ancora qualcosa di suo cioè inerente a chiara lei glielo butterà giù e lei la sta informando e le sta dando questo tempo questo preavviso perché lei è una persona molto buona lei è una persona insomma così come la vediamo appunto buona infatti insomma prima di far cadere un canale avvise proprietari del canale poi se si sbaglia ragazzi tutti sbagliamo ma lei non ha non ha maschere praticamente è una persona così trasparente e tornando al litigio della paradisi che a quanto pare ha parlato di lei cioè la paradisi ha parlato della d'alessandro dice che il karma probabilmente sta girando insomma con questo karma che gira bisogna stare attenti veramente dice anche che i canali di scuolo cioè gli eters devono fare gli affari propri e che lei non ha bisogno di fare la vittima infatti sappiamo tutti che questo bisogno non ce l'ha come non ricordare ad esempio il video dove lei non ha fatto la vittima e dove parlava di una certo bestione insomma come non ricordare quella live ma anche altre dove ad esempio in una diceva che non aveva mai sofferto così tanto per un dolore insomma ragazzi lei comunque la vittima non lo fa lei dice le cose come stanno e conclude la live abbastanza stressata per via delle continue interruzioni dicendo io sono chiara ad alessandro e voi siete dei pecoroni e questo era tutto per quanto riguarda questa live quindi pecoroni e pecorone a me non resta che salutarvi sperando che questo video vi abbia quantomeno intrattenuto io vi saluto vi prego di lasciarmi un like di iscrivervi al canale e di lasciarmi un messaggio ciao a tutti e alla prossima un bacio ciao 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 ciao